volevo soltanto farvi vedere vedete il pezzo davanti ecco qua si la rifinitura si vede bene ovviamente questi dove ha tirato un po la soffa andrà sistemata stirando va va anche via basta ritirarla un pochettino e come a livello di rifinitura io direi che ci possiamo stare guardate anche dentro passato prima con la taglia e cuci e poi per cui secondo me vale vedete anche i bordi ovviamente questi fili poi dopo l'italia intanto vado vado avanti non è male che mi sembra questa parte di dietro verrà 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 carino ma davanti con il resto quello molto